SBS sta per Special Broadcasting Service ed è una radio televisione multiculturale pubblica, quindi istituita dallo Stato nel 1975 con l'obiettivo di informare su quello che stava succedendo in Australia anche chi non aveva l'inglese come prima lingua. Il programma in italiano esiste da quasi 40 anni insieme alla SBS è nato praticamente perché fu uno dei primi sei programmi in lingua che nacquero negli anni 70 in Australia. Nel nostro caso molti italiani giunti negli anni 50 e 60, soprattutto le donne, quelle che restavano in casa e crescevano i figli, avevano e hanno una conoscenza dell'inglese limitata rispetto agli uomini che all'epoca andavano a lavorare, quindi volenti o nolenti dovevano apprendere l'inglese. Quindi la radio in italiano per la nostra comunità è sempre stata molto importante. Facciamo informazione per chi parla italiano ma in Australia, questo è il nostro primo obiettivo, il nostro pubblico principale, ma poi ci occupiamo chiaramente anche di Italia, ci occupiamo di arte, spettacolo, avvenimenti che possono essere rilevanti per la comunità italofona in Australia. Tutti i nostri programmi, tutte le nostre interviste sono ascoltabili e scaricabili online e ci rendiamo conto dai click che c'è un pubblico molto folto che vuole sapere esattamente quello che succede in Australia, quali sono le opportunità di lavoro, i pro e i contro del trasferirsi in questo paese.